Ehi ragazzi, 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 il karma è una brutta bestia, lo dico ai miei amici tifosi napoletani che vengono qua sul canale a sfottere prima del tempo. Noi abbiamo perso tre aziende in casa con la Fiorentina ed è sicuramente il risultato più brutto di quello vostro. Ma anche voi in casa col toro, il toro l'irreprensibile toro, non potete fare poi così tante morali, un campionato altalenante anche in quel di Napoli. E' ben vista, il karma è così. Avete cantato prima del tempo per due motivi, insomma, questa partita è il minimo. Siete altalenanti esattamente come noi, non potete permettervi di esaltarvi esattamente come noi. Insomma, tutto sommato siamo nella stessa barca sul piano delle prestazioni. Perché oggi devo essere sincero, il toro è venuto là in maniera quadrata a cercare di portare a casa almeno un punto. E c'è riuscita, c'è riuscita con una partita attenta in fase difensiva, ma a voi si vedeva che mancava il puntero centrale. Sia Ozymane sia Mertens. Quindi Napoli che senza un punto di riferimento, una punta centrale, è incapace secondo me di creare dei pericoli. Il gol che ha fatto Insigne è meraviglioso, bellissimo. Esattamente come quello che ha fatto Izzo, che mi ha ricordato un gol che fece Pogba a San Siro contro il Milan. Un gol molto simile, sta palla schiacciata, sta frustata al pallone, con il rimbalzo che si infila sotto la traversa. Gol bellissimi, però insomma un pareggio che è inutile ai fini della classifica per il Napoli. Invece è utilissimo per il toro, ma soprattutto per il morale, perché ottengono un punto in uno stadio molto tosto. Poi ripeto, il valore del campo si azzera perché non ci sono tifosi. Però insomma, è una partita che sono riusciti a strappare. Ho seguito un po' di più il Milan, perché avevo Dazon con lo smartphone, infatti si è scaricata la batteria. E poi mi sono dedicato dopo un po' alla TV con il Napoli. E la partita del Napoli è stata molto equilibrata. Cioè il Napoli, ho visto che dopo l'1-0 ha cercato un po' di schiacciarli, ma non ha creato delle situazioni clamorose. Ha fatto un paio di interventi decenti Siricun, così come li ha fatti Meret, perché ha fatto una bellissima parata su Belotti. Ha fatto un bellissimo tiro, ripeto, in segno. È un parigio che ci sta tutto, è un parigio meritato. La vittoria non la meritavate, cari Napoletani. Per cui dobbiamo concentrarci invece adesso sul discorso Milan-Lazio. Partita meravigliosa. Partita bellissima. Da vedere, da godere, perché il Milan è in grande condizione. E nonostante le assenze molto pesanti, riesce a portare via dei punti pesantissimi. Che nell'economia di una stagione, visto il momento, visto le assenze, è grasso che cola. È oro colato, signori. Questi tre punti sono oro colato. E quindi complimenti a Pioli e alla sua banda. Matteo Hernandez, ragazzi, oggi matatore totale della serata. Mirena è stato impegnato diverse volte. Lazio molto bene, anche in uscita, ha fatto buona parte della partita. C'è buona parte. Per una parte della partita ha interpretato bene la gara, cercando di creare dei pericoli alla difesa avversaria. È riuscito a pareggiare con un gol meraviglioso di Immobile. Gol poi su rigore. Il primo gol su rigore, va bene, ribattuto. E poi colpo di testa di Luis Alberto. Insomma, è stata una partita che fa capire che il Milan è squadra. È squadra totale. Lo è nelle difficoltà, perché riesce a sopperire anche con la forza e con l'agonismo, ma soprattutto con la classe di certi singoli. Tire Hernandez, ragazzi, giocatore assurdo. Avete fatto un acquisto della Madonna. Altro che utilissimo in fase offensiva. Poi qualche sbavattura in fase difensiva. Ce l'ha per questi cazzi. È un giocatore aggiunto nella manovra. È un giocatore che dà imprevedibilità in quella fascia. Che porta gli avversari a dover marcare con le dovute precauzioni. Perché è uno che dal nulla ti crea la giocata, la triangolazione, sa segnare, sa fare assist. È veramente un trequartista avanzato quando si mette lì in fascia a creare delle situazioni di pericolo. Per quanto riguarda la difesa, è un po' ballerina, ripeto, il Milan. È un po' ballerina, però è un centrocampo che con solidità e con intensità riesce a sopperire anche alle mancanze della difesa che è un po' balla. Però complimenti veramente al Milan che sta facendo una galoppata inaspettata. Da outsider sta facendo una galoppata che è clamorosa. Quindi, ripeto, rinnovo i complimenti. E i complimenti li faccio. Le squadre che meritano me ne fotte un cazzo di tifosi. Per i tifosi, quando perderanno, lo sfoto ci sarà, come giusto che sia. Però io commento calcio. E se vedo che una squadra mi fa divertire, mi fa godere di uno spettacolo. Perché io, quando c'è la Juventus, già c'è un handicap. Quando non c'è la Juve, c'è un handicap nelle partite che guardo. Non mi tirano dietro. Cioè, non mi tirano dentro la gara e non mi portano a seguire con una certa attenzione. Le guardo in maniera un po' così, spensierata. Invece queste partite qua, che sono ricche di gol, ricche di azioni, sono sempre aperte su uno spettacolo da vedere. Dici, come cacchio va a finire? Esattamente come un film che aspetti il finale. Senza tifini, nulla, non me ne frega nulla. Io tifo la Juventus, delle altre, me ne frego altamente. Devono arrivare tutte dietro di noi per quanto mi riguarda. Però se c'è una bella partita, ecco, questa merita sicuramente un'attenzione particolare, come quella di oggi, no? L'Inter che vince a Verona e si dimostra a squadra, ragazzi, sette vittorie di fila non sono casuali. E non sono casuali sette vittorie di fila. Stiamo lì a pensare, gioca male, si gioca male per efficacia. In Italia basta. Ci siamo passati anche noi. Anche noi ne sprizzavamo calcio totale da tutti i pori. Eppure i risultati zossi ce li portavano dietro e quelli sommati facevano la differenza tra la vittoria del titolo e la sconfitta del titolo. Questo è. Ecco perché vedo Napoli e Juve molto indietro da questo punto di vista. Perché perdono punti qua e là. È il punto focale della situazione, delle difficoltà che ha la Juventus. È esattamente questo qua. Perdiamo punti banali per errori di atteggiamento e di altre cose. Di disattenzione, di minchiatte. Minchiatte. Perché la partita con la Lazio si poteva portare a casa. In casa loro, eh. Eppure non ci siamo riusciti. Con la Roma, Eden con Patate, Crotone, Benevento. Insomma, la somma purtroppo sono punti pesanti che mancano. Sono punti pesanti che mancano. Quindi complimenti anche all'Inter che nonostante non mi piaccia a me vedere l'Inter. Infatti mi ha annoiato tutto il secondo tempo che è quello che sono riuscito a vedere. Perché sono andato a Zonza a fare spese per via questi giorni di festa che non c'era un cazzo in frigo. Invece voglio mangiare bene nonostante sia a distanza dalla mia famiglia, eccetera. Devo dire la verità. L'Inter non mi piace, però è estremamente efficace il suo gioco. Grande gol di Lautaro Martinez che dopo l'hai visto, gol di Skriniar di testa, disattenzione difensiva in occasione del gol subito. Però insomma sono sempre là e sono dei martelli. Io ve l'ho detto, non ridete, non scherzate sull'Inter. Che senza le coppe avrà un unico obiettivo, andare avanti in campionato, preparare le partite uno alla volta. E riuscirà secondo me nell'impresa di vincere lo scudetto. Il Milan lo vedo troppo fragile anche oggi, no? Nonostante tutto, nonostante la bella partita, lo vedo un pelo dietro all'Inter. Poi magari mi sorprende vincere il Milan, per carità. Noi siamo ancora più indietro. Noi facciamo un capolavoro nel girone di ritorno, ragazzi. Le dura. Le dura. Io sono uno di natura molto, molto ottimista e non mi lascio tirar giù nei brutti momenti. Ma questa altalena qua non mi piace. Mi puzza di discontinuità che si ripete anche nel secondo periodo. Non nel girone di ritorno, ma insomma dopo la sosta in poi. Io me lo auguro che la Juventus si riesca a sbloccare questa situazione e vada dritta come un treno frecciarossa fino alla fine. Ho dei dubbi e delle preplessità. La cosa che sicuramente mi fa piacere è il fatto che tanti giocatori promettano una svolta. Danilo, Ronaldo nei suoi posti, ve ne ho parlato nel video di questo pomeriggio. Quindi, insomma, in attesa della ripresa del campionato passate delle serene feste. Noi comunque ci sentiamo in questi giorni, non è che vi sto abbandonando oggi. Ma insomma, passate delle serene feste perché il discorso campionato è tutto aperto. Dipende tanto anche da noi. Se riusciamo a svoltare siamo ancora in corso. Altrimenti, signori, addios e tanti saluti. Però di rimonte nel campionato, il campionato è pieno di rimonte. Sarebbe la continuità, che è quella che a noi manca. Trovate quella formula là, ce la giochiamo. Ciao ragazzi e sempre fino alla fine, forza Juventus!